...da una banca comunque privata e dovendoli poi rendere in regime di interessi è un modo per togliere sovranità. Questo però onestamente, questo, in onestra è nei fatti, questo è nei fatti, perché se fai la moneta comune stai rinunciando, stai trasferendo un pezzo. Secondo lei invece questa teoria, secondo chi uno Stato sovrano deve rendere il denaro a una banca privata? Cioè come fa a sopravvivere? Non può sopravvivere. Tu non lo rendi a una banca privata, lo rendi a tutti gli investitori compresi.